Salve a tutti, mi chiamo Giuseppe Catenazzo, sono un corsista dello Chef Andrea Di Giglio e volevo dare anche il mio contributo al riguardo dello Chef, dicendo che è una persona molto seria, precisa, preparata e vi consiglio di acquistare i suoi corsi perché sono corsi molto precisi, sono corsi molto dettagliati e capirete un sacco di cose. Io, nonostante sono da anni nel mondo della pasticceria, ho comunque deciso di acquistare tutti e quattro i corsi che partono dalle basi fino ad arrivare a cose magari un po' più complesse e devo dire che mi sono servite perché ci sono cose anche sulle basi che magari non conoscevo e che mi hanno aiutato tanto ci sono cose nuove che ho scoperto, ci sono torte bellissime, moderne, ci sono tecniche di lavorazione nuove che io non conoscevo c'è ad esempio la sfoglia alla panna che io non sapevo nemmeno l'esistenza, che è una cosa squisita insomma è quant'altro. C'è tanto da scoprire, c'è tanto da imparare e anche se ho acquistato tutti e quattro i corsi, devo dire che ci vuole un bel po' di tempo per seguirli perché ci sono un sacco di video tutti precisi e spiegati benissimo quindi acquistate i corsi e soprattutto scoprirete che lo chef è una persona molto preparata e vi darà anche dei consigli e vi aiuterà nel caso in cui avete dei problemi perché comunque c'è anche questa possibilità che lo chef vi risponde nel momento in cui voi avete dei problemi per qualche ricetta, per qualcosa che non va, non è riuscito, lui trova subito la soluzione che dire, sono soddisfatto di questi corsi, di nuovo vi ripeto acquistate i suoi corsi e evviva lo chef, buona serata